Taranto è un terreno su cui voi lavorate da tanto. Viene dall'assima l'appello però ad ampliare la ricerca e a far confluire in questa città i cervelli più grandi d'Italia e internazionali per risanare l'ambiente salute. E' proprio questa l'iniziativa che con TNT vogliamo portare avanti, cioè chiamare a raccolta tutte le eccellenze scientifiche internazionali perché a Taranto abbiamo delle occasioni anche scientifiche molto importanti. in quanto disponiamo di dati, disponiamo di tantissime informazioni che sono state messe a punto e ottenute nell'ambito del lavoro svolto con il commissario straordinario per le bonifiche Vera Corbelli ma anche stiamo portando avanti tutta una serie di attività scientifiche di rilievo internazionale con le opportunità messe a punto dalla regione Puglia, con l'Inno Network, l'Inno Labs e quindi ci piacerebbe coinvolgere la comunità scientifica internazionale per confrontarsi e per produrre delle soluzioni concrete in tempi brevi. Che tipo di sperimentazioni sono state fatte fino ad ora a Taranto? Sperimentazioni anche finanziate per esempio dal MIUR col PON ricerca che consentono di poter chiudere il ciclo delle bonifiche nel senso bonificare attraverso biorimedio e fitorimedio e ottenere da questi prodotti vegetali per esempio biocombustibili, per esempio bioplastiche. Tutto questo è già stato realizzato, questo consente di poter accelerare questi processi e farli diventare anche molto più economicamente vantaggiosi e quindi anche di interesse per il mondo industriale.